arnoldo foa e luisa rossi sono i protagonisti del film drammatico la figlia del forzato diretto da gaetano amata è uscito nelle sale cinematografiche a cavallo fra il 1954 e il 1955 crotone 1860 mentre garibaldi e i suoi mille stanno invadendo la sicilia torna il paese natio la contessa adele che ritrova un suo vecchio amore il dottor palmieri che vive però con la figlioletta emma e la sua istitutrice rosalia la contessa tenta di tutto per riconquistare il dottor palmieri ma quest'ultimo nasconde un terribile segreto il film è sceneggiato dallo stesso regista gaetano amata che ne fa una libera rielaborazione basandosi sul famoso dramma teatrale in cinque atti scritto nel 1861 da paolo giacometti che si intitola la morte civile l'opera di giacometti ebbe un notevole successo anche perché trattava una tematica particolare come quella del divorzio in chiave anticlericale e divenne ben presto anche il cavallo di battaglia di celebri attori teatrali come ermete zacconi ed ermete novelli che negli anni 10 ne fecero anche delle interessanti trasposizioni cinematografiche se ne contano per l'esattezza tre e nel 1942 ne uscirà una nuova riduzione sonora intitolata appunto la morte civile diretta dal regista ferdinando maria poggioli un'opera che ebbe molti problemi con la censura fascista fu realizzato infatti il film nel 1940 e uscì nelle sale soltanto nel settembre del 1942 la quinta riduzione cinematografica ce l'abbiamo grazie a gaetano amata casertano classe 1912 inizia a muovere i primi passi nel mondo del cinema come aiuto regista di barbaro e di malasomma alla fine degli anni 30 debutta dietro la macchina da presa nel 1942 con il film paura da mare una commedia degli equivici interpretata da carlo minelli e poi ritorna dietro la macchina da presa nel 46 con il film un marito povero che si basava su un soggetto scritto da zavattini e vittorio de sicca la sua terza ed ultima opera cinematografica è appunto la figlia del forzato del 1954 dopodiché abbandonerà il ruolo di regista e si dedicherà alla produzione infatti sarà l'ispettore di produzione di due importanti film italiani ovvero il gattopardo di lucchino visconti e le mani sulla città di rosi nel cast del film troviamo alcune vecchie glorie del cinema italiano degli anni 30 e 40 come isapola e adriano rimoldi che negli anni 40 erano legati sotto contratto alla famosa casa di produzione scalera film mentre il ruolo della protagonista ovvero quello dell'istitutrice rosalia è interpretato da luisa rossi si tratta di una vera e propria meteora nel cinema italiano degli anni 40 e 50 lei arriva a romani primissimi anni 40 con il sogno di diventare una grande attrice viene notata dal regista forzano che le dà una piccola parte nel film il re d'inghilterra non paga nel 1941 e l'anno successivo anche un'altra piccola parte accanto a ferruccio tagliavini nel film musicale ho tanta voglia di cantare dopodiché con l'incombere appunto della guerra è costretta a rifugiarsi con tutta la famiglia in svizzera poiché era di origine ebrea qui si dedica alla radio e partecipa con un ruolo importante al film l'ultima speranza del 1945 una pellicola che risente della poetica del neorealismo italiano nell'immediato dopo guerra farà ritorno in italia e avrà un buon successo di pubblico e di critica con il ruolo di orsola nel film il lupo della silla del 1949 dove interpreta l'amante di vittorio gasman e la sorella di ammedeo nazari si dedicherà poi nei primi anni 50 a ruoli prevalentemente melodrammatici come nel film sangue sul sagrado del 1951 e si ritirerà dal cinema nel 55 per dedicarsi poi alla prosa teatrale e alla prosa televisiva farà rientro al cinema soltanto nel 1978 con il ruolo della madre di michele nel film di nanni moretti e ce bombo per rimanere informato sugli ultimi caricamenti del canale classici del cinema italiano ricordati di iscriverti e di attivare le notifiche così non ti perderai più i film in premier e i nuovi video di cinema italiano in pillole grazie e buona visione